Le indagini sono iniziate nella mese di aprile di quest'anno, quando presso il terminal bus della stazione ferroviaria di Pescara la finanza ha fermato un albanese proveniente da Bari trovato in possesso di circa 2,2 kg di eroina purissima. Lo sviluppo degli elementi investigativi acquisiti durante l'arresto di questo corriere ha permesso di individuare poi due fratelli, anch'essi albanesi e residenti a Montesilvano, con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle prime ore della mattinata i finanzieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone per i reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. I due fratelli sono tenuti d'occhio da mesi. Nel mese di giugno, in occasione dell'accessione della sostanza stupefacente, proprio ad opera dei due fratelli albanesi, i finanzieri acquisivano dati utili ad individuare il nascondiglio dove i trafficanti occultavano la droga. Si tratta di un sito nella campagna di Casal Bordino, vicino ad un vigneto, dove poi sono state rinvenute alcune buste di plastica con quattro panetti di eroina, peso complessivo 2,1 kg.